Sono molto contento di essere ritornato e dell'accoglienza che mi è stata riservata. Cerco di portare la mia esperienza, le mie capacità, le mie visioni, non solo organizzative ma anche scientifiche. Spero di essere a disposizione per tutti quanti, per i pazienti prima di tutto, ma soprattutto per i colleghi molto bravi, efficienti che lavorano in campo dopiantologico in tutta questa regione. Agli obiettivi sono sicuramente quello di mantenere l'eccellenza che già si è raggiunta in campo dopiantologico in regione Emilia Romagna, ma adesso guardare anche agli orizzonti futuri. Siamo già regione leader nella rete donazioni e trapianti, ma vogliamo fare meglio. Non ci si può mai accontentare nella sanità, in particolare nella sanità pubblica. Il ritorno del professor Pinna, con il suo curriculum, dice da solo quale valore aggiunto può portare e noi vogliamo fare sempre di più e sempre meglio, come abbiamo spiegato, proprio perché parliamo della necessità di dover garantire il massimo di speranza e di cura alle persone che hanno bisogno in questa regione. Abbiamo una rete di trapianto tra le più forti in Italia e vogliamo potenziarla, vogliamo soprattutto esplorare delle strade che riguardano le donazioni a cuore fermo, le donazioni di rene da donatore vivente e poi vogliamo potenziarla la rete. I tre che abbiamo, Bologna, Modena e Parma, siano fortemente potenziati. Poi vogliamo anche estendere la rete, quindi vogliamo aggiungere altri nodi, altri ospedali, soprattutto sul trapianto di rene da cadavere, perché abbiamo una lista d'attesa che ha bisogno di avere delle risposte e per potenziare la rete avere a disposizione Antonio Pinna è una garanzia.